Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it. L'ittero, cioè la colorazione giallastra della pelle e delle sclere, cioè la parte normalmente bianca degli occhi, è un fenomeno che in molti collegano rapidamente a problemi di salute del figato. Non tutti però sanno che la colorazione gialla è data dall'aumento nel sangue della bilirubina. Questa sostanza giallastra è un ottimo esempio di come nel nostro corpo tutto ciò che è prezioso e importante venga prontamente riciclato e inoltre è un ottimo indicatore del nostro stato di salute. In questo video capiamo cos'è la bilirubina, come si effettua la misurazione, quali sono i valori normali e quali sono le problematiche che è possibile individuare grazie alla sua misurazione. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. La bilirubina è una sostanza di scarto prodotta dalla degradazione della emoglobina. Di questa molecola e della sua importanza per il trasporto dell'ossigeno abbiamo già parlato in questo video dedicato alla carenza di ferro. Proprio perché il ferro è così importante per il nostro organismo quando i globuli rossi terminano il loro ciclo vitale che di solito di circa 120 giorni vengono praticamente smantellati e riciclati all'interno della milza. Dal gruppo M dell'emoglobina viene recuperato il ferro e la sostanza di scarto che ne deriva è la bilirubina, indiretta o libera. Non essendo solubile in acqua, la bilirubina indiretta per viaggiare nel sangue deve essere legata ad una proteina, l'albumina. La sua destinazione è il fegato, la nostra grande fabbrica chimica di trasformazione. Nel fegato la bilirubina viene resa solubile in acqua, grazie al legame con l'acido glucuronico. La molecola che ne deriva viene definita bilirubina diretta o coniugata. A questo punto viene convogliata attraverso i dotti biliari nella colecisti e poi riversata nell'intestino, per poi essere sostanzialmente eliminata con le feci che devono il loro colore, proprio a derivati della bilirubina che si formano all'interno dell'intestino. Per la misurazione della bilirubina nel sangue è sufficiente un prelievo venoso, preferibilmente la mattina a digiuno oppure dopo un digiuno di almeno 4 ore. Generalmente viene misurata la bilirubina totale e se il valore risulta alto si procede alla misurazione della bilirubina frazionata. La bilirubina frazionata è la misurazione delle due frazioni di bilirubina indiretta e diretta, che ci permette di capire se il problema si è verificato nel fegato prima o dopo. Vedremo meglio in seguito questo aspetto, mentre adesso ci concentriamo su quelli che sono considerati i valori normali. Tenendo sempre conto che bisogna far riferimento al proprio referto e che i valori variano in funzione di età, sesso e condizione fisiologica e patologica, si considerano normali valori di bilirubina totale compresi tra 0,3 e 1 mg per decilitro. La bilirubina diretta deve essere compresa tra 0,1 e 0,3 mg per decilitro, mentre la bilirubina indiretta deve essere compresa tra 0,3 e 0,8 mg per decilitro. Valori più bassi di quelli indicati non destano preoccupazione, anche perché in un organismo sano la produzione di bilirubina è sempre in equilibrio con la sua escrezione, quindi i valori nel sangue possono essere davvero molto bassi. Al contrario, per valori di bilirubina totale superiori a 2-3 mg per decilitro è possibile che si manifesti l'ittero, mentre per valori via via superiori si può andare incontro ad una intossicazione generalizzata e a morte. Quando si riscontrano valori di bilirubina totale alti è importante, come già accennato, procedere alla misurazione di bilirubina diretta e indiretta per capire dove si è rotto l'equilibrio. Non è detto infatti che il problema sia il fegato oppure solo il fegato. Se ad essere aumentata fosse la bilirubina indiretta potrebbe esserci un problema che riguarda l'eccessiva distruzione dei globuli rossi. Se invece ad essere aumentata fosse la bilirubina diretta, il problema potrebbe essere nelle vie biliari. Facciamo una rapida schematica panoramica che ovviamente non ha la presunzione di voler essere esaustiva di un argomento tanto complicato. Livelli elevati di bilirubina indiretta possono indicare cirrosi epatica, quindi una vera e propria degenerazione del fegato con perdita delle sue funzioni, che può avere varie cause tra cui l'alcolismo ma anche infezioni. Sindrome di Gilbert, una patologia benigna del fegato in cui per un deficit enzimatico si ha un rallentamento della trasformazione della bilirubina da indiretta a diretta. Normalmente è asintomatica, mentre in alcune condizioni di stress come malattia, digiuno o esercizio fisico intenso possono manifestarsi ittero, stanchezza e dolore addominale. Anemia emolitica o reazione alle trasfusioni, cioè in quei casi in cui si ha un'eccessiva distruzione di globuli rossi. Ittero neonatale, una condizione fisiologica tipica dei neonati dopo le prime 24 ore di vita e che generalmente si risolve spontaneamente entro i primi 10 giorni. I livelli elevati di bilirubina indiretta in questo caso sono dovuti alla distruzione dei globuli rossi in eccesso alla nascita. Solo se i livelli salgono eccessivamente si rende necessario abbassarli. In questi casi solitamente è sufficiente esporre i neonati a delle lampade che favoriscono la degradazione della bilirubina nel sangue in una forma solubile che può essere facilmente eliminata con le urine. Solo raramente si deve procedere con metodi più invasivi. Livelli elevati di bilirubina diretta possono indicare epatite virale o alcolica, tumori al fegato o danno epatico indotto da farmaci, ma anche ostruzioni o calcoli delle vie biliari e malattie del pancreas. Come sempre ricordiamo che ogni paziente deve essere attentamente valutato dal suo medico e non è possibile effettuare una diagnosi basandosi semplicemente sui valori della bilirubina. Se hai domande o vuoi lasciare la tua esperienza scrivi un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di Semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te!